Per il resto 2.0, siamo partiti stamattina da Bergamo, direzione Calabria. Passeremo per l'Emilia Romagna, la Toscana, l'Umbria, Lazio, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo, Marche, Emilia Romagna, Veneto e Lombardia. La nostra prima tappa è in Campania, Napoli, dove visiteremo Pompei, poi scenderemo in Calabria, a Praia Mare, dove visiteremo Bisogna di Dino e Arcomagno, scendendo, facendo Diamante, Tropea, uno al sud e poi risalendo fino a Matera. Se vi fa piacere, ciao a tutti! C'è n'è di Wanderlastero, tu lo sai che sai... C'è n'è di Wanderlastero, tu lo sai che sai... C'è n'è di Wanderlastero, tu lo sai che sai... C'è n'è di Wanderlastero, tu lo sai che sai... C'è n'è di Wanderlastero, tu lo sai che sai... C'è n'è di Wanderlastero, tu lo sai che sai... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.